Sai Baba Savya Sai Baba, 1926-2011, nel suo Ashram, ha fatto parlare di sé producendo fenomeni che sfidano la logica umana, guarendo ammalati e curando migliaia di pellegrini. Fin da bambino ha mostrato i segni della sua natura straordinaria. Migliaia di persone sono state testimoni dei suoi poteri sovrumani. Pur non avendo studiato, conversava con studiosi, filosofi, medici e scienziati di tutto il mondo. Dimostrava di conoscere a fondo tutte le scienze fisiche, metafisiche e spirituali. Appariva contemporaneamente in luoghi diversi, manipolava l'energia e quindi materializzava oggetti dal nulla. Guariva malattie incurabili, produceva quotidianamente una sorta di cenere chiamata vibuti, che possedeva virtù salutari, agiva sugli elementi e sulle forze della natura. Con i proventi delle donazioni dei fedeli ha costruito ospedali e scuole, ha fondato il Seva Dal, l'organizzazione che presta aiuto sociale ai bisognosi. Ha realizzato un'università per combattere l'alto tasso di analfabetismo che affligge l'India. Chi era Sai Baba? Commento. Sai Baba era un medium grandemente evoluto. In Italia la sua figura è avvicinabile a quella del medium Roberto Setti, del cerchio Firenze 77. L'energia che manipolava per produrre le materializzazioni è avvicinabile all'energia etero-cronica, di cui parla la guida Alexander, del cerchio esseno. La sua capacità di conversare con le grandi menti è avvicinabile alla scienza infusa di cui parla la Chiesa. I suoi poteri di materializzazione, in particolare della polvere vibuti, derivavano dalla sua grande evoluzione e più direttamente, come si è detto al cerchio medianico K, dalla sua penultima reincarnazione, in cui chi conosciamo come Sai Baba era un mago.